ciao a tutti da barbimare e benvenuti in questo nuovo video all oggi vi parlerò degli ultimi acquisti che ho fatto da bottega verde al negozio fisico non online e allora e allora tra l'altro vi aggiornerò anche e per quanto riguarda le mie sopracciglia perché comunque parleremo anche di queste altre cose da dirvi certo sicuramente allora è iniziata praticamente da aprile ma a me la cartolina è arrivata da qualche giorno a casa quindi siamo a maggio comunque va bene non ci fa niente il tempo c'è e mi è arrivata questa cartolina qua di bottega verde io non so chi tra di voi frequenta diciamo questo brand e allora praticamente questa cartolina presenta una promozione si può partecipare a questa promozione solo se appunto le informazioni vi arrivano cartacee a casa come funziona allora funziona così possiamo portarci a casa un premio in questo caso bottega verde e mi dà la possibilità di portarmi a casa questo trio formato un trio da viaggio formato da un borsone che questo qua una sacca è una borsa frigo il marchio è la ville pari come posso portarmelo a casa posso portarmelo a casa andando tutte le settimane anche non consecutive fino a ottobre 2022 facendomi rilasciare dal negozio quindi andando al negozio facendomi rilasciare dalla commessa presente un timbrino che è praticamente online lasciando la tesserina che è stata ritagliata da qui fino ad arrivare a un massimo di quanti bollini o timbrini 18 18 allora se io vado e mi faccio rilasciare al timbrino posso anche optare di acquistare cioè se io non acquisto il punto timbrino chiamiamolo come vogliamo mi viene rilasciato ugualmente altrimenti se faccio una spesa anche minima di 5 euro la commessa mi da mi regala anche il secondo punto non si può superare più di due punti quindi se vado ad acquistare anche 50 euro non importa comunque mi spetta solo un punto più quello della visita quindi siamo a 2 se arriva facilmente ai 18 punti anche se non si va tutte le settimane perché comunque da aprile ad ottobre sono più di 18 settimane poi al momento dell'arrivo del premio io lascio al negozio 11 euro e 90 11 euro e 90 un contributo e posso portarmi a casa appunto questo trio da viaggio eccolo qua quindi ho iniziato questa nuova raccolta di bottega verde non sono tanto entusiasta vi dico la verità ci sono stati dei premi precedenti molto più carini però ci sta va bene comunque borsoni sacchi e sacchetti non mancano mai fino a quando c'è posto in casa e lo riempiamo andiamo avanti allora cosa ho acquistato da bottega verde sono andata proprio dritta 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 per due motivi volevo acquistare del make up l'ho acquistato mi manca solo un prodottino perché non era disponibile al momento il negozio e poi ho iniziato ad acquistare i prodotti della linea sol la linea sol è una linea solare di bottega verde che ripresenta ogni anno con nuovi prodotti alcuni già conosciuti che sono tra virgolette i master vestivi di bottega verde grazie a questa linea sol si può che io adesso non l'ho presa e la prendo subito che ce l'ho portata di mano si può anche fare una raccolta punti che riguarda dei premi estivi scusatemi che ho qua la borsa così vi faccio vedere se riesco anche questa raccolta qua ecco qua infatti no questa è la visita premiata quella di cui vi parlavo prima pensavo ci fosse il mio indirizzo scusatemi poi 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 ecco qui ho iniziato la mia raccolta punti eccola qui e allora per il momento solo un timbrino perché ho preso un prodotto ve lo faccio vedere subito e poi passiamo magari al make up allora ho acquistato e avevo già riacquistato negli anni precedenti quindi so cosa ho acquistato il gel detergente dopo sole e viso che ci aiuta praticamente a non lavare via la bronzatura questo è all'olio di argan è molto bello perché quando esponiamo il nostro viso al sole anche durante le nostre passeggiate le nostre uscite giornaliere la nostra pelle va seccata dall'aridità del sole e quindi abbiamo bisogno di un detergente che ce la va a nutrire e quindi ad idratare e quindi questo io non lo userò soltanto quando andrò al mare ma lo userò anche durante le giornate estive calde che ancora qui a savona per me non si vedono perché non superiamo i 22 23 gradi al giorno io non so da voi ma so che nelle marche in piemonte e in varie regioni hanno le maniche corte cioè mettono già le mezze maniche voi che siete all'ascolto fatemi sapere come vi vestite infatti se mi vedete io ho le maniche lunghe non solo uscirò anche con una giacchettina in jeans e questa cosa mi turba molto perché io adoro il caldo adoro l'estate e quindi vabbè però non ci lamentiamo fatemi sapere con un commentino se voi vi vestite in modo primaverile invernale ahimè oppure estivo quindi niente ho preso questa questo detergente è soprattutto delicato anche per le per le per la pelle delicata proprio perché una pelle esposta al sole è una pelle delicata quindi grazie a questo acquistino ho avuto un il punto l'ho pagato 5 euro quando sono andata alla cassa l'era commessa tanto gentile mi ha informata sul fatto che se avessi acquistato anche la crema della stessa linea quindi linea sol e questo mi sarebbe l'avrei avuto in regalo in omaggio ho chiesto quanto appunto sarebbe venuta questa crema mi dice più o meno 12 13 euro ma io non ho approfittato dell'offerta perché mi ero imposta che dovevo rientrare in un range cioè nel senso avevo un limite economico da poter spendere da bottega verde quindi volendo rispettare appunto le mie esigenze non ho non ho approfittato della promozione non fa niente tanto la crema viso comunque non mi serviva invece questo sì perché i detergenti che ho per il viso non sono adatti per la pelle esposta al sole 5 euro mi mancano quindi adesso solo due bollini per prendermi cosa vi faccio vedere amici miei quello che ho scelto allora vorrò prendermi una borsa mare che questa qua c'è in tre varianti in tre quindi colorazioni e fantasie diverse io scelgo questa sceglierò bianca e gialla strisce con la scritta portami al mare i puntini sospensivi e poi il prossimo è omaggio tra virgolette ma con un piccolo contributo prenderò sempre con tre bollini la sacca termica per le bottiglie da un litro e mezzo barra due litri di bibita questo per avere questo oltre tre bollini devo aggiungere un euro e ottanta invece per avere questo solo un euro oltre tre bollini andiamo avanti allora ho comprato uno dei miei massive di make up di bottega verde vi sto parlando del mascara mi sto trovando benissimo bottega verde ha disponibili tante varietà di mascara quello che più piace a me è il volume extra black quindi parliamo di un mascara volumizzante di un colore nero intenso ed è questo 8 ml di mascara non lo apro perché sapete che se andiamo ad aprire i mascara senza poi doverli usarli il mascara il prodotto andando a contatto con l'aria si va a seccare quindi poi me lo ritroverò al momento di usarlo più secco rispetto a come appena lo apro ci siamo capiti bene andiamo avanti un altro che per me è must have veramente di make up di make up di bottega verde e con la quale io non riesco a farne più a meno è la matita per le sopracciglia che è questa allora non è automatica quindi ho bisogno ovviamente di un tempera matite per avere la punta sempre perfetta la matita è questa l'ho presa in offerta 5,99 se non sbaglio adesso vi dico anche il prezzo del mascara che era anche lui in offerta allora ci si trova in tre colorazioni 01 che è molto chiaro sicuramente per le bionde naturali 02 che è un cappuccino ed equivale ad un marrone molto chiaro quindi troppo chiaro per me e questo che è lo 03 che è il colore brown e quindi il marrone io prendo questo infatti vi ho portato anche la matita la sua gemellina che io sto usando vedete ero arrivata quasi a metà allora per evitare di rimanere senza tanto che comunque dovevo andare tra perché volevo i punti della visita premiata tra che comunque non vedevo l'ora di andare a conoscere la nuova linea sole di bottega verde ho detto vabbè la prendo volevo anche prendere per quanto riguarda il make up mio preferito di bottega verde è l'eyeliner che è quello che c'è su adesso ma non era più disponibile in negozio quando poi lo acquisterò ve lo farò vedere così condividerò con voi anche questa mia chicca allora prezzi 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 infatti 5,99 scontata la matita sopracciglia 7,99 scontato il mascara e poi appunto 5 euro il detergente viso cosa mi hanno regalato le commesse di bottega verde? mi hanno regalato il gel fresco aloe idratante lenitivo con il 90% di aloe è un gel molto rinfrescante per tutti i tipi di pelle poi mi hanno regalato lo shampoo fortificante al melograno è da tanto che non uso i prodotti bottega verde per i capelli con melograno e un mix di vitamine questo è adatto per i capelli normali ma io ahimè ce li ho grazie e va bene e poi mi hanno dato la crema viso giorno e notte prevenzione e trattamento rughe questa è una linea che io non conosco tutti i tipi di pelle che linea è questa qua? purtroppo io non la conosco va bene mi informerò mi informerò da da buoni sconto dei prodotti del mese di bottega verde ancora non ci ho dato un'occhiata gliela darò appena chiuderò il video cosa dirvi ci vediamo domani con un nuovo video anche dopo domani con un altro nuovo video sperando di riuscire a girarlo non vedo l'ora di parlarvi di alcuni prodotti che ho preso a Lidl prodotti beauty niente va bene vi ho già dato quest'anteprima quindi ci vediamo presto anche con tutti gli altri video vi do un bacio se volete farmi un regalo lasciatemi un bel like che è gratuito vi ringrazio tanto e appunto come vi ho detto prima vi do appuntamento al prossimo video ciao amici grazie per la compagnia ciao 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 ciao